In mare aperto, pluralità di orizzonti per non, messo tra parentesi, credenti. Questo è il titolo di un'iniziativa di cui parliamo adesso e ne parliamo insieme agli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Quindi do subito il benvenuto e il bentornato in realtà, perché entrambi sono già stati presenti in più di un'occasione sulle frequenze di Radio Bequita, Paolo Zebelloni della Chiesa Valdese di Pinerolo e Sabina Baral, in questo caso membro della Chiesa Valdese di Villarperosa, ma anche entrambi membri della Commissione Ecumenica. Buongiorno Sabina, buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. Io partirei dalla base. Che cos'è questa Commissione Ecumenica? Come nasce e chi raccoglie? La Commissione Ecumenica di Pinerolo è una commissioncina che è nata intorno a quell'idea che poi ha portato al culto di Pentecoste da Pinerolo in cui c'è stata l'idea di fondo del quattro amici al bar. Eravamo quattro amici al bar di antica memoria e questi quattro amici erano il vescovo Del Rio Rivero, Monsignor Del Rio Rivero, Gianni Genre, Mauro Pons e il sottoscritto. Da lì è iniziato un rapporto molto bello, secondo me, molto informale, che ha portato da una parte alla diffusione del culto di Pentecoste del credo del 2022, che è stato diffuso da Rai. E nel frattempo si è creata questa commissione che raccoglie sostanzialmente il vescovo, Monsignor Del Rio Rivero, Mauro Pons, Sabina, il sottoscritto, Silvia Borgiattino e recentemente anche Roberto Prinzio, che è il vicepresidente del concistore di Pinerolo e recentemente Carla Signori, che è la portavoce, diciamo, comunque la media manager della diocesi. Insieme abbiamo cercato di pensare delle cose un po' nuove, un pochettino, anche se vogliamo innovative, tra cui questa rassegna in mare aperto, pluralità di orizzonti, non col punto interrogativo, credenti, perché spesso la gente si dichiara non credente, ma in fondo, in fondo, magari qualche cosa, qualche dubbio sul fatto di essere... Qualche riflessione l'ha fatta. Qualche riflessione. O l'ha fatta o la vorrebbe fare, magari. Questo è un po' il tema che vogliamo portare, quindi parlare a chi crede di non credere o magari non crede, magari potrebbe anche cambiare idea. È interessante questo cammino che è stato avviato da qualche anno e che si sta... Qualche anno, credo che sia iniziato sostanzialmente prima del... diciamo, i semi sono stati gettati prima del covid, perché io dico sempre c'è un prima del covid e poi c'è un dopo covid. Ha stravolto un po', sì, certo. Ho fatto i termini. Io giusto l'altra sera mi sono rivisto, che tempo che fa, quando è stato invitato a Derio Olivero, che era ancora in ospedale e che ci raccontava che cosa è stato per lui, che è stato un prima e un dopo. E noi abbiamo avuto anche di un prima e un dopo. Sul dopo abbiamo pensato che valesse la pena di fare delle cose diverse, possibilmente nuove. Il fatto comunque di essere propensi a farlo è già un bel passo avanti. Certo, certo. Beh, poi insomma, la zona di Pinerolo, delle valli, una zona, soprattutto quella di Pinerolo, più che delle valli, in effetti è una zona che ben si presta, forse anche ad un confronto maggiore, a una frontiera maggiore, a una possibilità di dialogo anche appunto tra le varie comunità, in questo caso la comunità protestante valdese, evangelica valdese e la comunità cattolica della Chiesa Cattolica. In mare aperto, che significato assume in questo contesto questo titolo che avete pensato, Sabina? Beh, per le religioni istituzionali vuol dire lasciare, diciamo, la loro casa per incontrare anche l'ignoto, per incontrare percorsi diversi da quelli con cui normalmente ci confrontiamo. Certo c'è un rischio, c'è anche il senso della sfida, però crediamo che sia importante appunto aprirsi a percorsi e strade diverse, che possono essere il dialogo con i non credenti, ma anche con persone che vivono una pietà personale, semplicemente in modo diverso dalla nostra. Spesso siamo presi dai pregiudizi, da preconcetti, no? Senza pensare che noi possiamo intravedere anche degli spirali di trascendenza laddove proprio noi non ce li immagineremmo, perché Dio sappiamo che ci spiazza sempre, si fa sempre trovare laddove noi non penseremmo che sia, no? E quindi magari anche in un cantante o in un musicista di una band possiamo, magari c'è una ricerca di senso che ci avvicina, che si avvicina a una ricerca di spiritualità o comunque anche di fede. L'importante secondo me è accettare la realtà senza pregiudizie, senza preconcetti. Aperti alla conoscenza. Aperti alla conoscenza, accettando il reale, credo che poi il reale possa sempre stupirci. C'è anche da dire che il mare si presta a una metafora, no? Perché il mare aperto, gli elementi sono quelli che sono. Il mare può essere calmo, agitato, può essere un mare pericoloso oppure amico. Sicuramente il mare non ti perdona, è come la montagna, no? Dicevamo prima, il mare non accetta che tu lo sfidi senza una certa cognizione, ma c'è anche il vento. Lo spirito soffia, il vento soffia. Lo spirito ti può portare da qualche parte anche il vento. Se tu immagini anche che una barca a vela la porti dove vuoi, se sai orientare le vele, questo è una metafora che ci spiega il perché del mare aperto. Una navigazione più o meno difficile, più o meno che ognuno ha la sua poi alla fine, no? E magari pensare che possiamo parlare di una navigazione non così facile per tutti, posto che per qualcuno lo sia, ma magari per qualcuno è più facile, per altri meno facile, e da qui è nato il discorso del mare aperto. A me fa anche pensare questo titolo che avete dato in mare aperto alla vastità degli argomenti, delle cose che si possono dire, proprio degli ambiti di lavoro che sono talmente tanti che a volte sono perfino invisibili all'orizzonte. Poi la navigazione si presta a fare il sottocosta, non vai tanto lontano, però insomma corri il rischio di andare su qualche secca. Il mare aperto invece è quello che dice magari la secca non la trovo e posso andare in posti più lontani, posso superare i miei limiti, basta che abbia il coraggio di farlo. Certo, e la voglia di mettersi in gioco, la capacità. Un po' di capacità magari aiuta. Allora prima Sabina citava un musicista, ma non l'hai citato a caso insomma Sabina, perché in effetti avete scelto dei personaggi particolari, comunque c'è stata una scelta dietro ai relatori, alle relatrici, agli incontri che proporrete, una scelta secondo me molto particolare, molto attenta. Ce la volete spiegare? Beh sì, sono un pochino dei personaggi di confine. Forse quello proprio più estremo da questo punto di vista è Gipo di Napoli, questo leader storico della banda Cadabra, questa street band torinese, molto bravi, anche diciamo conosciuti perché girano il mondo, insomma con diverse tournée. Lui poi è un manager culturale, insomma anche molto conosciuto nell'ambiente culturale torinese, che si è occupato anche di cose, di temi molto diversi tra di loro. Non lo so, io assistendo dei loro concerti molto banalmente ho pensato che ci fosse qualcosa di sacro, anche se apparentemente lui è una persona profana, una di quelle più profane, però credo che ci sia nella loro capacità per esempio di comunicare con chi ascolta, di fare musica in questa maniera esemplare, viva, veramente qualcosa passionale, qualcosa che possa avvicinare, perché no, alla trascendenza. Quindi è tutta una sfida, questo ce lo dirà Gipo, se questa intuizione mia è assolutamente folle. Beh intanto ha accettato l'invito. Però ha accettato e devo dire anche con onorato e lieto, probabilmente anche lui, di andare in una terra direi sconosciuta, ecco perché non è il suo pubblico abituale. Certo, potete insomma citarci a qualche altro partecipante? Sono quattro, tra l'altro gli incontri diciamo. Esatto, sono quattro gli incontri e tra l'altro gli incontri erano strutturati per poter dare una continuità che portasse poi al falò del 16 e poi al 17 febbraio. Quindi sono stati cadenzati proprio nelle quattro settimane, prima l'ultima è la settimana prima dei falò. E la prima è già la prossima. Eh già, siamo già praticamente... Il 19 gennaio sarà la prima serata. Il 19 gennaio, praticamente ci siamo lì. Devo dire che uno degli invitati, dei presunti redattori a questo punto, è Vittorio Emanuele Parsi che purtroppo ha avuto proprio al 30 di dicembre un problema, o il 29 che fosse, non mi ricordo più, un problema piuttosto grave. Noi abbiamo pensato di mantenere il suo appuntamento perché ci risulta da Paola Schenemann che era deputata a intervistarlo e a interagire con lui che ci tenesse moltissimo a venire in terra valdese. È stato a Pinerolo qualche... l'anno scorso, mi pare, a maggio. E ci teneva. Lui è anche lì, è un non credente, che però è interessato. Quindi da questo punto di vista, magari sai, anche lui avendo avuto questa esperienza, non sappiamo come è uscita. Certo, è ancora da confermare questa data, certo. E allora, è improbabile che riusciremo, ma ci proviamo, ecco, da questo punto di vista. Gli altri invece, te li lascio... Sì, beh, l'altra è Annalena Benini, forse figura più conosciuta. Con cui aprite. Non certo di Parsi, perché Parsi è un politologo molto noto, ma Annalena Benini è giornalista del Foglio, si occupa in particolare di cultura, direi di costume, ed è anche la direttrice del Salone del Libro di Torino. È anche una scrittrice, perché questo libro, l'ultimo, Annalena, intorno a cui interloquiremo, è appunto il terzo di, mi sembra, dei suoi libri, ed è una donna molto attenta alla valorizzazione delle figure femminili, molto attenta alla sapienza femminile, una donna, direi, che ama l'ambizione delle donne e il desiderio femminile, cioè quel desiderio che ci porta a pensare in grande e a fare le cose in grande. Quindi ci interrogheremo un po' intorno a questo tema, di che cosa significa appunto desiderare, eccetera. L'altro è, invece, ruota più intorno al mondo cattolico, Luigi Verdi, che è fondatore della Fraternità di Romena, che prende il nome della pieve toscana, dove lui accoglie persone anche lì in ricerca, che cercano anche una semplice ospitalità, ma anche magari un'interlocuzione intorno ai temi della spiritualità. Anche lui è un soggetto, da quello che ho capito, molto border, appunto, nel mondo cattolico, e molto sul confine, quindi anche lui è un po' affacciato sulla scogliera. Sì, è affacciato sulla scogliera che guarda al mare aperto. Diciamo che credo che siano persone che uno o ama profondamente o in qualche modo un po' detesta, cioè di quelle persone che avendo un carattere, si dice spesso che hanno un brutto carattere, perché semplicemente hanno un carattere, cioè hanno una personalità migliore. Insomma, avete scelto anche in modo un po' provocatorio queste persone, che comunque, insomma, la provocazione aiuta anche a stimolare il dibattito, il confronto. Gli appuntamenti sono previsti due nella sala Bonhoeffer della Diocese. Sì, in via Trieste, sono i primi due, 19 gennaio e 26 gennaio. E poi i due successivi al Salon, nel Tempio Valdese di Pinerolo. Esatto. Con questo grosso punto interrogativo. Ma noi abbiamo ipotizzato di rimandarlo, cioè alla peggio non si fa l'uno, ma si farà in qualche modo, sperando appunto che, come mi risulta, il professor Parsi stia meglio. In ogni caso, noi diamo l'appuntamento con il, ricordiamo, il primo appuntamento, che sarà appunto venerdì 19 di gennaio, con questo ciclo di incontri, quattro incontri, speriamo che siano quattro, lo saranno se non adesso a febbraio o poi, in mare aperto, pluralità di orizzonti per non o credenti, insomma, a seconda di come uno si vuole definire, questo ciclo di incontri organizzati dalla Diocesi e della Chiesa Valdese di Pinerolo. Io ringrazio ovviamente i miei ospiti, grazie a Paolo Zebellone, grazie a Sabina Baral per essere stati con noi e buon inizio, insomma, per questo percorso che ci porterà verso il 17 febbraio. E si interseca anche con la Spuc. Esatto, con la settimana di preghiera. E quindi abbiamo puntato questa sequenza in questo modo. Quindi ci sembrava bello poterlo anche sicuramente dire un po' a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.